A uno dei tanti malanossi del comune di Napoli che prima realizza la pista ciclabile e dopo noleggia lo spazio anche a concessionari d'auto e cose del genere per metterci dei palti. Un'altra età è possibile, guarda, ecco, un'altra età è possibile. Dovrebbe essere libera da tutto, solo biciclette, invece no. Questa pista ciclabile è sempre occupata da stand, cosa ne pensi tu che sei un ciclista? Io che sono un ciclista, che dovrebbero almeno avere l'accortezza di lasciare l'unica cosa che abbiamo che è la pista ciclabile libera.